Perché non ha tolto i ragazzi, danni già no, e dirlo vudi? L'assessore, lei ha tolto il Gattisù. L'assessore, lei, io lo ritengo, un assassino della nostra cultura negra. Grazie. Perché lei ha inserito... Ma ci vediamo che non lo ha condannato. No, no, ma l'assessore, io tu te la meritafono. Come mai si è identificato il Gattisù, non c'era? Sì, vorrebbe qualcosa di certo Gattisù. Ma te ne conosciate, Gattisù? Gattisù. Io le ho fatto la cortesia, potremmo anche non farlo, però... Però le grazie, Gattisù. Possiamo dire cosa vuole stare, cosa vuole stare. E' colpa la lingua greca, sì o no? Non è colpa mia se vuole stare lì. Io ho fatto di tutto per cercare di coordinare le cose, di dare un segno. E' un senso alla grande confusione che c'era su questo. Sono stato poco compreso. Spero però di non aver lasciato un segno negativo per le mie azioni. Assessore, adesso pure che io sono un esponente della società civile. E lei è l'assessore di minoranza di Ministro di Trascio Robbio. Lei deve pensare che c'è un rappresentante che a te lo chiede. Come mai non mi chiamano mai, assessore? Chiamano sempre sindaci? Chiamano sempre persone strane? A questo punto. Va bene, grazie. Ricordatevi che noi siamo grecovoli e la rimanenza è l'onica. Ciò che chiamano l'onica e la meccanica è soltanto l'onica. Grazie, non siamo grecovoli. Perché è un punto pure in su, che abbraccia un po' alla vita e che abbraccia un po' a superiore. Non dà forte che amici o no. E sono le compi. Grazie.